Perché parla il collega Fitto, è lui che ha voluto la riunione, la cabina di regia e quindi è bene ascoltare il diretto interessato. Sì, sì, è stato molto utile, peraltro nel passato credo che la cabina di regia si sia riunita soltanto pochissime volte, due volte, attenzione, attenzione, attenzione. Con questo governo credo sei, sette volte, segno evidente che c'è una grande volontà di collaborare, di dialogare con le regioni e con gli enti locali. C'è fiducia sui tempi per le modifiche al CNR? Sì, io non penso solo ai tempi, penso anche all'esito, perché se poi arriviamo al giugno del 2026 e buona parte delle risorse non è stata utilizzata perché i progetti non sono stati realizzati, io credo faremmo una gran brutta figura. Quindi apprezzo il senso di responsabilità del collega Fitto che sta lavorando perché le opere finanziate possano essere inaugurate e la scadenza è inesorabile, luglio 2026. Meglio rinunciare a qualche opera irrealizzabile piuttosto che dover dire non siamo stati capaci di spendere. Grazie.